Ben trovati, ben trovati a tutti da parte di Marco Fabriani e oggi parliamo di droghe, lo facciamo con uno dei massimi esperti, il professor Massimo Barra. Pensate che dal 1974 cura i tossicodipendenti, prima per il Comune di Roma, poi nel 1976 fonda Villa Maraini, un ospedale proprio per il recupero dei tossicodipendenti. Ha curato circa 50.000 persone, pensate, in questi 46 anni. Professor Barra, ben trovato nei nostri studi. Ad oggi com'è cambiata la situazione, diciamo, le droghe degli anni 70 ad oggi? Ma io parlo di corsi e ricorsi storici, le droghe sono sempre quelle, quelle che danno piacere e che l'umanità consuma fin dai tempi di Noè e che coltiva in milioni e milioni di ettari, indipendentemente dalla situazione economica, dai conflitti, dalle guerre. Ci sarà un motivo se l'umanità continua a coltivare queste sostanze. Evidentemente hanno un potere magico, sono amate dalla gente la quale di fronte al piacere non capisce niente, si abboffa senza sapere, o anche sapendolo, che un eccesso di piacere, una concentrazione di piacere porta poi al dispiacere. E alla fine, se fai la somma algebrica, ci hai rimesso. In che percentuale si guarisce? Ma io da sempre parlo di legge del 33%. Innanzitutto la guarigione è un processo lento. Non puoi pensare che da un giorno all'altro, solo perché incontri un psicologo, un assistente sociale o anche un medico, tu guarisci. Perché è un amore folle, è un amore folle che ha bisogno dei suoi tempi, dal primo momento della luna di miele, poi l'ambivalenza e poi la routine, che è la tomba dell'amore, anche di questo folle amore. Quindi la cura è una cura che dura nel tempo. Qual è il medicinale in primis che viene utilizzato? Per gli oppiaci sicuramente abbiamo questo farmaco indispensabile che è il metadone. Se non ci fosse il metadone le nostre città sarebbero ancora più violente di quanto non sono. Quello che noi predichiamo, siccome la terapia non è un rapporto uno a uno, la terapia è una presa in carico. La presa in carico comincia in famiglia. La famiglia è inutile che si butta ad atteggiamenti isterici, irritati. La famiglia si deve prendere la sua croce, si deve caricare la sua croce. Non ci sono corti circuiti, non c'è nessuno che ha la ricetta della verità. Se qualcuno predica che ha la ricetta della verità è un impostore. In realtà qui parliamo di un problema fisico, fisico, riproducibile in laboratorio. Professor Massimo Barra, parliamo un attimo di Villa Maraini. Villa Maraini è anche un pronto soccorso? È l'unico centro in Italia e probabilmente nel mondo che è sempre aperto, H24. Ma pure le comunità sono aperte per chi sta dentro. Noi siamo aperti per chi sta fuori anche. Quindi in qualunque momento può scattare un'emergenza, di giorno o di notte. Collaborate anche con gli ospedali civili? Sì, ci chiamano. Ci chiamano non solo, ma anche le forze dell'ordine hanno trovato in Villa Maraini un appoggio unico. Nel senso che a Roma, questo non lo sa nessuno, insomma a Roma ogni volta che arrestano un tossico la prima cosa chiamano a noi. E la cosa fa piacere sia alle forze dell'ordine sia ai tossici. Per cui noi facciamo una sorta di intermediazione, il cui primo obiettivo è che la persona non stia male. Voi date un servizio gratuito, quindi è una struttura che dà un servizio gratuito. Come fate a andare avanti? Male, male. Il limite della nostra azione sono le strutture pubbliche che ci dovrebbero finanziare. In principio la regione Lazio. La regione Lazio viola quotidianamente la legge nazionale antidroga. Non abbiamo mai trovato un interlocutore con cui poter parlare di contenuti. e quindi si va avanti in maniera stanca, con ritardi, con disattenzioni, con pregiudizi. Il limite della nostra azione non sono i tossicomini, che pure sono belli tosti, ma sono i normali. I normali e soprattutto quelli di regione comune. Con il comune poi non abbiamo più nessun tipo di rapporto. La città come Roma, il comune di Roma, per Villa Maraini non spende una lira. Noi vediamo ogni giorno 600 tossicomani. Pensate se non li vedessimo, questi 600 tossicomani. Ma al comune di Roma si potrebbe degnare di darci una mano. Ce lo dava vent'anni fa, quindici anni fa. Poi negli ultimi dieci anni abbiamo interrotto qualunque tipo di rapporto. Grazie al professor Massimo Barra, fondatore di Villa Maraini, nata nel 1976. Grazie professore per essere stato qui con noi. Un grazie a voi tutti da Marco Fabriani.